È la seconda volta che Padova è in prima linea con un intervento ai limiti dell'immaginazione, un trapianto da vivente su paziente oncologico e metastasi diffuse sul fegato, realizzato con l'innesto e coltivazione di una piccola porzione di fegato sano da donatore. L'equipe della chirurgia epatobiliare dell'azienda ospedaliera di Padova ha perfezionato la tecnica rispetto alla prima operazione, anche se questo rimane un intervento sperimentale che finora conta 12 casi nel mondo. Siamo in una fase ancora pioneristica che è quella dell'esplorazione di poter trapiantare pazienti con metastasi da colon retto non operabili e quindi con prognosi non buone, poter sostituire il fegato senza gravare sulla donazione da cadavere. Questo è molto importante perché come sapete i donatori a cadavere non sono molti e quindi l'idea che è nata in Norvegia, che noi abbiamo recuperato, che si sta esplorando, come avete capito, nei centri di maggiore specialità del mondo, è quella di prelevare un piccolo frammento da un donatore vivente senza fargli rischiare la vita, quindi con un intervento tranquillo, ammesso che un intervento possa essere tranquillo. Questo piccolo frammento che non è sufficiente a sostenere la vita viene impiantato a fianco del fegato ammalato e con delle tecniche particolari viene spinto alla rigenerazione rapida, ecco perché l'intervento si chiama rapid. In 15 giorni questo frammento esplode letteralmente dal punto di vista rigenerativo, raggiunge più del doppio del volume e diventa sufficiente a sostenere la vita del ricevente e quindi si può togliere la parte restante del fegato ammalato. Abbiamo fatto in laparoscopia quest'ultima parte di intervento, questa è una novità, questa sì, mondiale e siamo molto contenti perché questo apre secondo me un'era che è quella della trapiantologia oncologica, cioè il trapianto non è mai stato pensato se non in alcuni casi particolari per i pazienti con tumore, oggi c'è la concreta possibilità che questo si sviluppi in futuro. È un protocollo sperimentale, è un protocollo sperimentale sotto legida del Centro Nazionale Trapianti, quindi queste procedure sono super controllate e saranno chiaramente per pochissimi super selezionati i pazienti, però capite che si apre una disponibilità innanzitutto, una possibilità concreta che andrà vagliata nel termine di efficacia con tutti i crismi scientifici di cui l'azienda sentita in questi giorni è assolutamente all'altezza, ma è un'opportunità concreta per i pazienti che fino ad oggi hanno avuto solo opportunità non chirurgiche. Gli interventi di trapianto di fegato, ma non solo, non sono mai stati sospesi a Padova, hub regionale, punto di eccellenza a cui fanno riferimento da tutta Italia, uno sforzo eticamente indispensabile, sostenuto dalla direzione nonostante la riorganizzazione dovuta alla pandemia. Abbiamo addirittura fatto il 17% in più di attività, siamo tutti molto stanchi, qui ringrazio ancora una volta la mia equip, stiamo lavorando tantissimo per cercare di compensare chi invece sul territorio ha difficoltà ad avere risposta e operare, ma grazie a una protezione quando le risorse, come avete sentito in questi mesi, sono state ridistribuite alla pandemia.